Momento di bilancio per il comprensivo casale di Brindisi, dopo lo screening sanitario effettuato nei giorni scorsi per la ripresa delle lezioni. Una fase certamente complicata per una non semplice gestione della doppia didattica, in presenza e contemporaneamente a distanza. Soddisfazione comunque da parte del dirigente anche per la risposta all'escrizione al nuovo anno scolastico, condizionato però dagli open day svolti forzatamente in forma virtuale. Si è effettuato lo screening di una buona parte della nostra popolazione studentesca, siamo andati anche oltre il 50%, lunedì si sono sottoposti volontariamente a tampone. Come sta andando la presenza ovviamente degli studenti ma anche la gestione di questa didattica doppia? Ecco questa didattica che adesso si suole definire anche purtroppo devo dire alla carta, questa didattica mista che integra la didattica a distanza con quella in presenza sta creando numerose difficoltà. Anzitutto il nostro personale, i nostri docenti risultano sfiancati da questa metodologia ma quello che più importa è che si sta riflettendo negativamente sugli studenti e soprattutto sulle categorie più deboli, perché appunto presenta da un punto di vista metodologico diverse carenze. L'Istituto Comprensivo Casale ha organizzato per tempo tutta un'attività sia di orientamento sia in entrata che in uscita e devo dire che i genitori hanno partecipato anche se come lei diceva soltanto nelle videoconferenze online ha partecipato agli open day e le iscrizioni stanno andando bene, stiamo avendo delle buone risposte da parte dell'utenza. Grazie.